Più sofferta del previsto per la Giunta Vendola, l'adozione della delibera per 703 nuove assunzioni sanitarie sbloccate dal Governo centrale. Un pacchetto da 39 milioni di euro di spesa in favore di 5 ASL, un ospedale, il Policlinico di Bari e due istituti di ricerca, l'oncologico e il Debellis di Castellanagrotte. Ha lasciuto la BAT che non ha ottenuto deroghe scatenando più di un malumore tra gli assessori. Spetta alla ASL di Bari il primato sui posti sbloccati negli ospedali ben 418, 4 i primari, 102 i medici, 8 i dirigenti sanitari, 288 infermieri e 6 operatori sociosanitari per un costo da 21 milioni di euro. Sul Taranto 158 unità in più di cui 94 infermieri, 61 camici bianchi e 3 dirigenti. A Brindisi la copertura di 60 tra medici e veterinari e 14 infermieri. Sul Lecce è sbloccato l'ingresso di 21 tra tecnici e infermieri e 8 dirigenti medici, 3 in meno, 26 nella ASL di Foggia che incassa 13 dirigenti e altrettanti os. Alla Policlinico invece in arrivo 6 primari nei reparti complessi tra cui un cardiochirurgo ed un anestesista. Solo 4 gli assunti dell'Istituto Tumori, 2 infermieri, un primario radiologo ed un medico. Infine a Castellana Grotta il rafforzamento della pianta organica con altri 2 medici.